Dottoressa Mastrippolito, le nanotecnologie hanno a che fare con la chimica, l'arte, ma esistono delle nanotecnologie antelitteram? Sì, anche se il termine nanotecnologia può fare quasi paura, può far pensare a così scienziati chiusi nei laboratori che hanno a che fare solo con degli strumenti scientifici di altissima tecnologia. In realtà si può vedere già negli ultimi decenni come in un certo senso le nanotecnologie erano già conosciute, già utilizzate anche in tempi antichi. Possiamo pensare per esempio agli antichi maia, alle civiltà precolombiane in generale che sapevano realizzare un pigmento, un blu, il famoso blu maia che era così resistente grazie proprio alla tecnica di produzione con cui veniva sviluppato, solo negli ultimi tempi si è capito che questa tecnica di produzione sfruttava proprio delle nanotecnologie, quindi può essere stata un utilizzo di nanotecnologie prima ancora di coniare il termine. Ma non solo i maia, già nell'arte europea o di tutto il mondo si potevano utilizzare in un modo inconsapevole, in un certo senso sia nella colorazione dei vetri, sia nella realizzazione di foglie d'oro, quindi in molti aspetti dell'arte pittorica in particolare. Poi in un certo senso la nanoscienza vera è solo quella che abbiamo oggi perché abbiamo degli strumenti scientifici in grado di indagarla e quindi di capire perché certi fenomeni fisici e chimici si realizzano. Però si può dire che le nanotecnologie erano già esistenti e conosciute in un certo senso in modo inconsapevole già nell'antico.